Oggi a MTG la testimonianza della donna che sabato scorso mentre attraversava il passaggio a livello di via Pestuma a Ragusa ha rischiato la vita. Oggi la donna lancia un appello. Fanno discutere a Monterosso Almo le dimissioni del vice sindaco. Quest'ultima accusa il sindaco di essere accentratore, ma il primo cittadino rimanda al mittente le accuse e critica i consiglieri di opposizione. Sono state approvate le linee guida per la revisione del piano regolatore generale di Scigli. Frutto di proposte e di idee dell'intera cittadinanza, l'iter porterà alla definizione del nuovo strumento urbanistico a 12 anni di distanza dall'ultima approvazione. Sarà più facile investire su Marina di Modica e Maganuco grazie al piano spiagge presentato oggi a Palazzo San Domenico a Modica. Il piano prevede realizzazione di infrastrutture e maggiore facilità nel rilascio di autorizzazioni. Benvenuti a questa nuova edizione del nostro telegiornale. Parla a MTG Gianna Damaso, la donna che sabato scorso, mentre attraversava il passaggio a livello di Via Pestum a Ragusa, ha rischiato di essere travolta da un treno. Per l'ennesima volta le sbarre non si erano abbassate e si è sfiorata la tragedia. La signora oggi fa un appello a chi di dovere affinché episodi simili non si verifichino più e chiede al ragazzo che l'ha soccorsa quando era in stato di shock di contattarla per ringraziarlo e per avere la sua testimonianza. Vediamo. E' ancora scossa la signora Gianna. Sabato a mezzogiorno il treno ha sfiorato la sua auto. A bordo c'era anche il figlio piccolo. Il passaggio a livello di Via Pestum non aveva funzionato per l'ennesima volta. Lei si è accorta soltanto all'ultimo momento dell'arrivo della Littorina. Il treno mi è passato davanti non a Passo Duomo ma veloce. Per velocità io non intendo se è a 4 km orari, a 10 km orari. Fatto sta che io giustamente sono scesa dalla macchina e ho iniziato a gridare nei confronti del capotreno perché l'ho anche insultato perché giustamente non si può. Poi è venuto un signore vestito per bene, insomma mi ha chiesto scusa, però io nel momento talmente ero presa dal panico, talmente avevo il bambino che anche un po' piangeva perché vedeva me tramortita che non ho dato più di tanto retto, gridavo. Mentre ci racconta com'è andata la signora Gianna Damaso non nasconde che dopo lo shock con ricovero al pronto soccorso è arrivata la rabbia. Ieri l'amministrazione comunale di Ragusa ha mandato una lettera di diffida a Trenitalia. Ancora non si riescono a trovare i responsabili di questo passaggio a livello che un giorno funziona e il successivo no. La donna ci ha messo pure l'avvocato. Il mio appello è quello che questo passaggio a livello si deve chiudere perché oggi è successo a me e domani può succedere a qualcun altro. Infine l'appello al ragazzo che l'ha soccorsa intanto per ringraziarlo e poi per una testimonianza che può essere preziosa. Mi ha soccorso un ragazzo che spero si faccia sentire perché ho chiesto di farsi sentire. Insomma chi ha visto qualcosa a contatti la signora Gianna Damaso lo può fare sul suo profilo di Facebook, può raggiungerla anche tramite video mediterraneo, siamo a disposizione. Questa storia non finisce qui. Dopo che la maggioranza ha modificato lo statuto comunale di Ragusa eliminando i monogruppi e in previsioni di modifica anche al regolamento del Consiglio, oggi otto consiglieri comunali di opposizione scelgono di rilanciare tanto da chiedere l'azzeramento totale dei costi della politica del Comune. Capoluogo, vediamo. 8 consiglieri comunali di opposizione a Ragusa hanno presentato un ordine del giorno finalizzato all'azzeramento totale dei costi della politica comunale. Secondo gli esponenti di minoranza, dopo che Movimento 5 Stelle e PD partecipiamo e Movimento Città hanno modificato a colpi di maggioranza lo statuto comunale, eliminando i monogruppi consigliari e mortificando identità e sensibilità politiche di ciascuno di loro, adesso con questo ordine del giorno si capirà se il fine della maggioranza e dell'amministrazione è davvero quello di ridurre la spesa pubblica. Per questo gli otto consiglieri chiedono di approvare subito e per l'intero mandato la rinuncia a percepire i gettoni di presenza per il Consiglio e le commissioni consigliari e la stessa cosa chiedono al Presidente del Consiglio, a Sindaco e ad Assessori, ovvero rinunciare in toto a percepire l'indennità di funzione. L'ordine del giorno, primo firmatario, il consigliere Maurizio Tumino, seguito dai colleghi Lo Destro, La Porta, Marino, Migliore, Mirabella, Morando e Nicita, forse sa un po' di provocazione, ma sicuramente aprirà un confronto a Palazzo dell'Aquila. Fanno discutere a Monterosso Almo dopo l'ufficializzazione di ieri le dimissioni da Vice Sindaco di Salvatore Noto. Vediamo. Le diversità di metodo circa l'operatività amministrativa non ci consentono di avere un'omogenea e uniforme visione in merito. Così il Vice Sindaco di Monterosso Almo, Salvatore Noto, ha motivato le sue dimissioni dall'incarico. La lettera di dimissioni datata 9 febbraio è stata diramata ieri, una lunga missiva in cui Noto ribadisce in maniera chiara le reciproche distanze di procedure e comportamenti creatisi in questi anni circa la conduzione amministrativa e il venir meno del clima di collaborazione condiviso durante la campagna elettorale del maggio 2012. Noto accusa il Sindaco di essere un accentratore e a conclusione della lettera ringrazia tutti i dipendenti comunali che definisce efficace supporto per gli atti di sua pertinenza, ringrazia i professionisti, gli operatori economici, gli enti, le associazioni culturali, tutti i cittadini. Anche il Sindaco Paolo Buscema da parte sua ringrazia il Vice Sindaco che per tre anni ha lavorato al suo fianco e ne ha condiviso le scelte. Ma proprio alla luce di questo rispedisce al mittente le accuse di accentratore. Buscema critica poi l'atteggiamento dei consiglieri di opposizione che dopo avere criticato e deriso politicamente il Vice Sindaco, adesso lo assurgono a martire della situazione. I malumori tra Buscema e Noto erano nell'aria già da qualche mese, da quando cioè il primo cittadino aveva annunciato la volontà di volere riflettere sulla situazione a Palazzo di Città e di rivedere l'assegnazione delle deleghe. Noto da parte sua, al momento non intende rilasciare alcuna dichiarazione sulla sua decisione e si riserva di farlo nei prossimi giorni. Non c'è alcuna risposta da dare perché su questa vicenda ho delegato sin dall'inizio il dirigente del settore legale Salvatore Mezzasalma a rappresentare l'amministrazione. E' quanto dichiara il commissario dell'ex provincia regionale di Ragusa, Dario Cartabellotta, in merito alla proposta di un tavolo tecnico per definire in maniera transattiva il copioso contenzioso tra l'ex provincia e il consorzio universitario Ibleo. Se il presidente del consorzio universitario Ibleo, dichiara Cartabellotta, ha bisogno di una lettera formale, vuol dire che provvederemo. Ma durante i colloqui con i vertici del consorzio ho manifestato il mio assenso accogliendo subito la proposta perché il primo obiettivo è proprio la chiusura del contenzioso tra l'ex provincia e il consorzio ed ho delegato da subito l'avvocato Mezzasalma a rappresentare l'ente. Come argomento sono state approvate le linee guida per la revisione del piano regolatore generale di Scicli. Vediamo come è andata. Il Consiglio Comunale di Scicli ha avviato la scorsa settimana l'ITER che porterà alla definizione di un nuovo strumento urbanistico che terrà conto dei mutamenti che il territorio ha subito economicamente e culturalmente nell'ultimo decennio. Sono passati 12 anni dall'approvazione dell'ultimo PRG ed era sicuramente ora che delle varianti venissero portate. Un particolare rilevante è che alla stesura delle linee guida ha partecipato l'intera comunità sciclitana che ha presentato numerose proposte di sviluppo del territorio all'ufficio tecnico. È stato inoltre istituito ad hoc un laboratorio di idee, chiamato Laboratorio di Rigenerazione Urbana Sostenibile di Scicli, frutto della sinergia tra gli ordini professionali degli architetti e degli ingegneri insieme al Collegio dei Geometri. Il laboratorio ha partecipato attivamente sia in fase di presentazione di proposte e suggerimenti, sia in fase di approvazione, proponendo modifiche per il futuro della città sciclitana. Il nuovo PRG di Scicli sarà lo strumento per trasformare la città, dirigendola verso uno sviluppo nel settore turistico, scrivono dal laboratorio, spingendola verso nuove forme di sviluppo agricolo. I principi guida del PRG sono stati la limitazione del consumo del territorio, l'uso razionale delle risorse, la qualità dell'ambiente, la fruibilità delle eccellenze del territorio. Ed intanto il commissario del Comune di Scicli, Trombatore, ha dato il via libera agli interventi con procedure d'urgenza per la manutenzione delle buche più pericolose per la sicurezza di automobilisti e passanti. L'impresa affidataria dei lavori sta proseguendo l'operazione nelle parti abitate del centro urbano e nelle borgate. 14.25, ci fermiamo per la pausa pubblicitaria. Tra poco. Ben ritrovati alla seconda parte del nostro telegiornale. Il Governo nazionale rimane immobile dinnanzi al grido d'allarme lanciato dai comuni siciliani contro i tagli che provocano ricadute negative sul territorio. Sostengo pienamente le iniziative di proteste indette dal Comune di Mirabelle in Baccari e da tanti altri enti locali. E' quanto dichiara il Sindaco di Modi che Ignazio Abbate, che punta l'attenzione sull'attuale geografia degli enti locali gravati, afferma dalla grave e insostenibile mancanza di trasferimenti. Il Comune di Mirabelle in Baccari è solo un esempio, scrive Abbate, ma ci sono tanti altri comuni della Sicilia che lamentano l'inadempienza del Governo nazionale e ne patiscono gli effetti. A pagarne le conseguenze sono soprattutto i cittadini che si vedono recapitare bollette esose. Anche io, conclude il primo cittadino, nei prossimi giorni sarò a fianco degli altri enti locali con cui proseguiremo una battaglia per il ripristino dei trasferimenti e per le riserve come contributo aggiuntivo per i comuni in predissesto. Cambiamo argomento. La Polizia Provinciale ha reso noti i dati dell'attività svolta nella stagione venatoria 2014-2015, conclusesi lo scorso 28 febbraio. Vediamo. Le aree rurali del territorio ebleo dove maggiore è stato il fenomeno del bracconaggio nella stagione venatoria 2014-2015 sono quelle di Chiaramonte, le contrade Mortilla, Marangio, Scornavacche, Torrevecchia, di Vittoria, contrada Fossalupo, Bastonaca, Fondomonaci, Modica, La Cava, Martorine. Il nucleo di vigilanza venatoria della Polizia Provinciale ha intensificato le attività di controllo. Alcune specie nel nostro territorio sono per fortuna in espansione, arricchiscono un patrimonio naturale che negli anni passati stava scomparendo, il cinghiale, il coniglio selvatico, l'istrice, alcune specie di volatili. Ma una delle conseguenze è l'incremento del bracconaggio. E allora la Polizia Provinciale ha predisposto nuovi servizi di vigilanza. Il bilancio è di 683 cacciatori controllati, 69 persone denunciate in stato di libertà all'autorità giudiziaria per i reati di bracconaggio. Sono stati sequestrati 49 fucili, più di 1200 cartucce e 35 furetti, oltre a richiami acustici, reti, trappole ed altro materiale illecito, sequestrati anche molti animali purtroppo già uccisi, tra cui un istrice, mentre sono stati liberati alcuni storni, testugini e altre specie. L'attività di indagine poi ha portato alla denuncia per bracconaggio e maltrattamento di animali del titolare di un'azienda agricola incontrada palamentana a Ragusa. Teneva in gabbia molti animali selvatici in pessime condizioni igienico-sanitarie. E infine rilevante il recupero presso la diga di Santa Rosalia di un daino ferito che è stato curato e poi reintrodotto nel suo ambiente naturale. La giunta di Modica ha approvato il piano di utilizzo del demanio marittimo redatto dai professionisti locali Giuseppe Bonomo, Giuseppe Spadaro e Dario Modica sotto la guida dell'assessore Giorgio Belloardo. Sentiamo tutti i particolari in questo servizio. Marina di Modica si apre al turismo e all'imprenditoria di settore. Grazie al piano integrato delle spiagge presentato questa mattina a Palazzo San Domenico sarà più facile aprire un'attività o ottenere una concessione per l'utilizzo del demanio pubblico. Verrà incrementata l'offerta sportiva con la creazione di aree attrezzate a Marina di Modica e a Maganugo su precisa richiesta dell'assessore Arramo Rita Floridia. Verrà realizzata una pista ciclabile che partirà da Punta Regilione e seguendo l'attuale sentiero sugli scogli arriverà fino a Maganugo. L'assessore Giorgio Belloardo ha quindi previsto uno spazio per lo stazionamento delle barche in prossimità del moletto di Piazza Mediterraneo, un collegamento tra via del Laghetto e l'ex piscina, ora Auditorium Nannino Ragusa, un'area attrezzata per far passeggiare gli animali domestici e gli accessi alle spiagge facilitati per i portatori di handicap. Il tutto cercando di perseguire uno sfruttamento del territorio sostenibile grazie alla consulenza di Dario Modica, professionista modicano specializzato in materia ambientale. Il piano verrà pubblicato per un mese sul sito istituzionale del Comune di Modica, arco temporale in cui sarà possibile effettuare proposte e valutazioni. Trascorsi i 30 giorni verrà presentato in Consiglio Comunale che lo dovrà ratificare apportando le eventuali correzioni. Quindi sarà inviato a Palermo per la definitiva adozione prima dell'estate. In ogni caso, grazie all'enorme salvaguardia, non appena sarà approvato dal Consiglio sarà operativo da subito in materia di rilascio di concessioni per attività. Modica sarà la seconda città in Sicilia dopo San Vitolo Capo a dotarsi di un piano regolatore per la fascia costiera. Con quest'atto andiamo adottare quello che è proprio il piano regolatore di quello che è l'uso della spiaggia, della fascia costiera che parte all'interno del territorio di Modica. Sarà la certezza sulla nascita di nuovi scialei sugli scogli e su quella parte costiera così come ci sarà la possibilità di poter realizzare una pista ciclabile che va a collegare Maganucco a Punta Riciglione. E quindi veramente daremo certezza anche a tanti imprenditori che di fuori vogliono venire a investire nel nostro territorio e quindi ci sarà sicuramente per Modica e per Marina di Modica una scienza in più rispetto al passato. Sulla riscussione dei tributi da parte del Comune di Modica intervengono con una dichiarazione congiunta i consiglieri comunali di opposizione D'Antona, Caruso, Castello, Ceruto, Colombo e Spadaro. Questi criticano l'amministrazione e il sindaco che in conferenza stampa nei giorni scorsi hanno presentato come novità in assoluto l'istituto della continuazione che riduce in presenza di determinate condizioni la percentuale della sanzione e la rateizzazione del dovuto. Provvedimenti dichiarano i consiglieri di opposizione già previsti da decenni dal diritto tributario. Critiche anche sul rifiuto della proposta di non introdurre la Tasi nel 2015 e di restituire la Tari caricata in eccesso. Cambiamo argomento, presentato oggi in conferenza stampa a Ragusa il progetto del complesso polifunzionale Feliciano Rossitto. Vediamo. Giovedì mattina si pone la prima pietra di un progetto ambizioso e volto a tutta la comunità ragusana il complesso polifunzionale del centro studi Feliciano Rossitto. 700 metri quadri di spazi culturali che sorgeranno su un'area tra via Majorana e via Lapira. Sala, pluriuso, palcoscenico, ufficio e poi una biblioteca che potrà finalmente ospitare le migliaia di libri dell'archivio storico del centro. Un patrimonio culturale che verrà finalmente ordinato e messo a disposizione dei cittadini. Uno spazio per una biblioteca di 30.000 volumi se voi vorrete vi faremo vedere in che condizione siamo qua perché noi avevamo 20 anni fa 5.000 volumi ora ne abbiamo 15.000 e purtroppo non siamo in condizione di poter svolgere l'attività di ricerca che è fondamentale perché qui vengono studenti e non per compiere delle ricerche quindi noi potremo disporre di uno spazio per 30.000 volumi. Il complesso polifunzionale costa nel suo primo stralcio 750.000 euro un terzo verranno dall'accessione dell'attuale sede del centro Feliciano Rossitto un altro terzo con un mutuo e 250.000 euro da contributi di soci, aziende e donazioni volontarie. Nell'ottavo anniversario della morte di Nino Bagieri ieri pomeriggio nella chiesa Maria Ausiliatrice a Modica Alta il vescovo di Piazza Armerina Monsignor Rosario Gisana ha presieduto la celebrazione eucaristica tanti fedeli presenti ieri sera poi presso l'oratorio salesiano San Domenico Savio dove si è vissuto un momento di fraternità per ricordare la figura del servo di Dio Nino Bagieri per il quale l'anno scorso si è aperto il processo di canonizzazione l'appuntamento di ieri ha chiuso il calendario di manifestazioni stilato nel bicentenario della nascita di Don Bosco da oggi pomeriggio e per ogni martedì dalle 16 alle 18 sarà attivato nei locali della CGL di Vico Cairoli a Ragusa lo sportello di ascolto attivo uno spazio dedicato ai temi del disagio psico e sociale che potrà contare su un'equip composta da psicologi, avvocati, sociologi e volontari gli incontri dovranno essere concordati telefonicamente i nostri programmi prima di chiudere canale 11 alle ore 21 Dolce Amaro Night canale 605 alle 21.30 la replica di live dedicato alla riforma della scuola canale 694 alle ore 21.30 il concerto dell'Istituto Verga per Dario Campo è davvero tutto per questa edizione del nostro telegiornale grazie per averci scelto e buon proseguimento su video mediterraneo Grazie a tutti